Una firma che sancisce la nascita della Fondazione Archivio della Manifattura Richard Ginori di Doccia e quella apposta stamani da Ministero dei Beni Culturali, Regione Toscana e Comune di Sesto Fiorentino, soci fondatori della struttura che racconterà la storia di un luogo dove si sono intrecciati lavoro ed arte. Se noi calpestiamo il nostro passato, se rinunciamo al nostro passato, è semplice capire che non abbiamo futuro e tutto questo sta nel quadro invece di una Toscana, quello che stiamo facendo, che si valorizza, che prende spunto dal suo passato, che lo ripropone e di qui trova anche l'energia per il futuro. La scelta della Fondazione porta all'apertura anche verso altre realtà del territorio, private ed associative, che potranno essere coinvolte nel progetto museale che vedrà la luce entro fine 2022. Un percorso lungo e complesso ma che oggi segna una pagina importantissima per Sesto Fiorentino, la manifattura e la fabbrica salvata da un accordo poco tempo fa, e il museo che oggi con la nuova fondazione può rappresentare una storia diversa e nuova per la cultura e per un pezzo di identità di Sesto Fiorentino. Un bel giorno per Sesto, arrivato al termine di un lungo percorso, ma anche stimolo ed esempio di gestione dei beni culturali nel nostro paese. Qui è una grande operazione di recupero, di una straordinaria collezione, un impegno comune di Stato, Comune e Regione, che apre anche una strada importante per i musei di impresa, che sono un altro del grande patrimonio italiano sottoutilizzato. L'intera operazione tra restauro e risanamento del museo, acquisto delle opere in porcellana e interventi di conservazione, avrà un valore di oltre 6 milioni di euro. Grazie. 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 Grazie.